Cari amici e amiche, finalmente il nostro appuntamento con Univoca Online, l'informativa sul volontariato culturale e sul territorio lunedì 24 maggio 2021. Anche oggi tanti incontri, tanti suggerimenti da e per il mondo del volontariato culturale. Come sempre iniziamo con Univoca Notizia Online con il calendario delle proposte presentato da Feliciano della Mora. Questa sera vi parliamo di Univoca Notizia che è appena uscito due giorni fa. Ecco, la prima iniziativa si riferisce agli amici collaboratori del Museo Egizio di Torino che presentano prossimamente tre incontri online. Domani, martedì 25 maggio alle ore 18, Vincent Rondeau, proveniente dal Museo del Louvre di Parigi, in inglese parlerà di Nubian Studies. Martedì 8 giugno alle ore 18, visualizzazioni in 3D e virtual reality per l'archeologia funeraria egizia, dalla necropoli al sarcofago. Giovedì 18 giugno alle ore 18, Cedric Goebbels in inglese parlerà del Museo Egizios Current Research at Deir and Medina. Ecco, i particolari di questi tre incontri li potete vedere su Univoca Notizia e Cartaceo o sul sito internet di Univoca. Gli amici dell'educatorio propongono in presenza due incontri presso la sede dell'educatorio della Providenza, in corso 3013 a Torino. Venerdì 28 maggio alle ore 17.30, ti passo in passo dalla materia allo spirito, parlerà Gualtiero Buecchi. Venerdì 18 giugno invece alle ore 17.30, nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il canto trentatresimo del Paradiso, ne parlerà Franco Ottone. L'Associazione Arte, Archeologia e Cultura ad Almese, ARCA, ha riaperto le ville romane di Almese e di Casalette con una prima visita che si è svolta ieri, per la prima volta nel 2021. Prossimamente verranno riaperte domenica 6 e domenica 20 giugno, nel pomeriggio. La prenotazione è obbligatoria e seguite il calendario delle successive aperture sul sito www.univoca.org. L'Associazione Musica Viva ha ripreso l'attività in presenza presso la Cappella dei Mercanti in via Garibaldi 25 a Torino. I prossimi incontri saranno venerdì maggio alle ore 16.30, inserito in Laude Pontificalis, Anna Bergamini, soprano, e Luca Parolin, tenore, in ensemble di donne abbandonati, con Francesco Bergamini e Nina Sevolzniak, violini, Alessandro Cultori, viola, Giulio Sanna, violoncello, Carolina Opalca, organo positivo, in musiche di Antonio Vivaldi e Benedetto Marcello. Sabato 12 giugno, il duo Busso Bergamasco con Valentina Busso al violino e Francesco Bergamasco al pianoforte suoneranno musiche di Mozart, Schumann e Ravel. Sabato 19 giugno, sempre alle ore 17, il duo Robert and Mary, con Mary Coyayan al violino e Robert Portinga al pianoforte, in un terzo premio che hanno vinto, che hanno acquisito, in occasione di musica da camera al concorso internazionale Luigi Nono, nell'edizione 2019. Sabato 26 giugno, il duo Sanna Geno con Sanna Giulio al violoncello e Massimiliano Geno al pianoforte suoneranno musiche di Beethoven e Mendelssohn. Anche l'associazione Pro Natura di Torino riprende le proprie consuete uscite sul territorio. Le prossime saranno domenica 30 maggio per andare a Rosetto della Sorpresa a Castellalpero, domenica 13 giugno per il truc bandiera, il nuovo bosco di Pro Natura, domenica 27 giugno, andranno al Talucco, Rifugio Melano. E poi presentano anche la loro uscita dal 17 al 24 settembre nella Sicilia Sud Orientale. I programmi in dettaglio li trovate sul sito www.univoca.org e per le prenotazioni obbligatorie occorre contattare direttamente la segreteria di Pro Natura a Torino. Gli Amici di Bene hanno in corso alcune mostre aperte fino al 27 giugno. Queste sono espressioni d'arte, una rassegna di opere di Pasqualina Poggio presso cella della torre campanaria della parrocchiale. Poi sensazioni, artisti contemporanei dello studio Petrecca di Torino presso la chiesa di San Bernardino dei Disciplinati Bianchi. Poi il 3T, Terra, Territorio e Tradizioni, la terza edizione della collettiva promossa dalla Società Promotrice delle Arti di Torino, allestimento di Orietta Lorenzini e presso il Palazzo Lucerna di Rorà, già Aurelia di Novello. Ultima, la propaganda in Porcellana, statuine, lo monosof della Real Manifattura di San Pietroburgo a cura di Giovanni Prelle Forneris presso la Casa Ravera. La Società Dante Arriglieri, il Comitato di Torino, giovedì 10 giugno alle ore 18, presenterà il loro consueto salotto letterario online con Pietro Forena sul tema L'italiano in Europa, esperienze linguistiche del Settecento. Conduce l'incontro il presidente della Società Dante, Giovanni Saccani. L'Associazione Vivan propone sul canale YouTube una presentazione della pubblicazione dal titolo Siamo stati educati così di Fabrizio e Yolanda Antonieri Dunks. L'Associazione Culturale Atena segnala che l'area archeologica di industria è accessibile, previa prenotazione, secondo intese tra l'Associazione stessa, il Comune di Monteudapo, e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino. Concludo con la notizia di una nuova iniziativa di Univoca. Un corso sulla piattaforma Zoom su tre livelli. Le associazioni aderenti ad Univoca vengono invitate ad individuare tra i propri iscritti quelle persone con difficoltà all'uso della piattaforma informatica per avviarle all'uso del nuovo mezzo di comunicazione che anche dopo la pandemia resterà uno utile strumento comunicativo nella vita quotidiana, sociale ed associativa. Il corso sarà strutturato su tre momenti. Un modulo zero che è un tempo personalizzato per le persone che hanno difficoltà ad avvicinarsi a questo strumento in cui si insegnerà come accedere a Zoom sia da un personal computer, da un cellulare o da un tablet. Il modulo uno invece, della durata di 30 minuti, insegnerà, aiuterà a partecipare a videoconferenza con Zoom e quindi creare un account, entrare in una riunione programmata da altri, disattivare e attivare audio e video, rinominarsi, scrivere in chat, alzare la mano, eccetera, eccetera. Un modulo due, anche questo di 30 minuti, è come organizzare e gestire una videoconferenza con Zoom. Quindi pianificare un incontro, dati da comunicare per il collegamento, avviare la riunione, opzioni, gestire le opzioni di sicurezza delle stanze virtuali e altre informazioni avanzate. Ecco, chi è interessato a questo, segnalatelo inviando una mail a info-univoca.org Grazie Feliciano, solo l'imbarazzo della scelta con tutte le proposte che ci hai fatto, che possiamo ritrovare sul sito www.univoca.org. E ora i progetti di Univoca. Abbiamo già accennato, durante l'intervento di Paolo Berruti, degli amici dell'arte dell'antiquariato, di questo importante quaderno del volontariato culturale. Un'avventura iniziata 21 anni fa, sempre vivace e stimolante, che coinvolge tutte le associazioni di volontariato culturale. ce ne parla Maria Luisa Reviglio della Veneria, colonna portante insieme a Gabriella Monzeglio di questa iniziativa. Grazie. Buongiorno, oggi parliamo di un progetto di Univoca, il quaderno del volontariato culturale. È uno strumento di collegamento tra Univoca e le associazioni di volontariato culturale che operano nella regione Piemonte. Questo progetto ha messo a confronto con grande vitalità temi e modalità operative di ogni associazione e di ogni settore culturale ed è stato voluto, ideato e organizzato da Univoca con sostegno del Centro di Servizi per il Volontariato Volto. Il quaderno è una pubblicazione annuale di circa 160 pagine dotato di codice ISSN di reperibilità ed è iniziata nel 2000. La collana editoriale è unica nel suo genere su tutto il territorio nazionale, è un servizio insostituibile ed è necessario alla società a disposizione di tutti. Scrivono articoli corredati da immagini circa 20 associazioni per ogni numero. Con la distribuzione del volume in formato cartaceo e attualmente con la sua presenza online sul sito univoca.org nel quale sono inseriti singoli articoli sia rintracciabili per numero che per argomento sono sicuramente stati raggiunti più di 12.000 volontari. Il quaderno nelle sue varie edizioni è stato presentato e omaggiato al Salone del Libro di Torino nello stand del Centro di Servizi e presso istituzioni pubbliche o private, fondazioni bancarie ed istituti scolastici. È stato inviato alle biblioteche di Torino e provincia, ai giornali, alle scuole e a tutte quelle realtà socioculturali che hanno collaborato e collaboreranno attivamente con il volontariato per creare così una rete e una partecipazione sempre più attiva. Infine, con le stesse modalità, il quaderno è stato mandato anche in Francia presso tante municipalità e associazioni francesi, per esempio a Dorex-sur-Loire, a Chamberry, a Lens-le-Bourg, a Puy-en-Velay. La collana, che dà voce e spazio alle associazioni impegnate nella tutela e nella conservazione dei beni culturali, accoglie articoli, come avevamo detto all'inizio, che siano originali, inediti ed innovativi, su tematiche condivise per raccontare e divulgare le varie esperienze progettuali delle associate univoca. Da temi e argomenti di specifico timbro culturale, come una mostra, una pubblicazione, a interventi progettuali sul territorio, da digressioni storico-artistiche, per esempio un restauro, una ricerca particolare, a testimonianze di vita, a momenti di informazione, di studio e di approfondimento. Se vogliamo elencare i pregi del quaderno, possiamo dire che ha costituito uno strumento di conoscenza e di scambio tra le realtà associative. Ha esemplificato le diversificate metodiche progettuali e operative di approccio al bene da valorizzare. Ha fatto conoscere il reale profilo, sia qualitativo che professionale, del volontariato culturale. Ha proposto nuove linee di lettura dei beni culturali e ha divulgato le forti motivazioni del nostro volontariato. ha dimostrato la qualità della rete che via via negli anni si è formata attorno ad Univoca e dai suoi progetti. La somma fondamentale è quello di considerare la cultura e il suo volontariato senza esclusioni né steccati, sia perché la partecipazione al quaderno è aperta a tutti e anche alle associazioni non aderenti ad Univoca, sia perché ci si è convinti che la cultura è sociale e il sociale è cultura ed insieme convergono umanisticamente nel senso dell'uomo. Questa rienterpretazione della cultura assume così un allargato valore terapeutico e con queste ipotesi le nostre esperienze si sono allargate anche agli altri settori del volontariato, al settore ambientale, al settore assistenziale, al settore sanitario. La cultura può incontrare le nuove povertà emergenti per abbattere le antiche dicotomie. Il quaderno del volontariato culturale assume così un ruolo, un significato che va oltre il mero valore strumentale di una raccolta di saggio e di esperienze e identifica il volontariato culturale come pensiero o esperienza partecipe dei valori della solidarietà e della condivisione. Ad oggi è in corso di realizzazione il quaderno numero 21 e ricordo a tutte le associate univoca di inviare i loro contributi al più presto. Mi sta piacere ricordare che l'anno scorso, in concomitanza con il trentesimo anno di fondazione di univoca, è uscito il quaderno numero 20 e si è rivelato subito come una memoria storica importantissima perché ha permesso di verificare cosa sono stati i trent'anni di attività delle associate univoca sul nostro territorio piemontese. Allora l'invito è a tutte le associazioni che ci stanno ascoltando e alle associazioni di volontariato culturale di partecipare alla ventunesima edizione del quaderno del volontariato. Oggi siamo all'aperto con Paola Campassi di Pro Natura il volontariato culturale si declina con l'ambiente. I progetti delle associazioni un esempio di cosa insieme con passione tenacia si può fare. Grazie Paola. Eccomi qua. Dunque, il progetto di cui vi parlerò è un progetto di recupero di Cascina Bert. Cascina Bert è un edificio rustico della fine del 1700 che si trova sulla collina torinese a 4 chilometri dal centro di Torino e di proprietà del comune che lo ha dato in concessione a Pro Natura nel 2008. Quando Pro Natura l'ha avuto in concessione si trovava in totale degrado ed è nostro orgoglio aver quindi recuperato con sforzi economici e con tanto lavoro di volontariato un bene pubblico. Le cose interessanti di questa Cascina, di questo recupero sono il fatto che la sua posizione la rende un luogo adatto per la frequentazione e la promozione della collina torinese. Non per niente questo progetto di recupero si inserisce proprio nell'attività che fin dagli anni 90 del secolo scorso Pro Natura conduce con il recupero e la manutenzione dei sentieri della collina. All'interno di questa Cascina l'associazione propone delle attività didattiche e dei momenti di aggregazione. Si è andata creando così una rete di associazioni ambientali, culturali di tutti i sociosanitari e di tutti i settori del volontariato che possono approfittare di questo luogo in una posizione panoramica stupenda con una bella visione sul panorama di Torino e facilmente raggiungibile come dicevo dal centro della città. Senza andare troppo lontano ci si può trovare in mezzo al verde in questo luogo così bello dove abbiamo sia un bello spazio all'aperto sia un bello spazio interno dove si possono anche appunto fare delle videoproiezioni. È collegata con i mezzi pubblici con il bus 70 e il bus 73 è raggiungibile a piedi dai sentieri 14 e 16 della collina torinese e quindi è un luogo ideale per passare una bella giornata in collina. Vi invitiamo quindi a venirla a vedere e per avere informazioni e dettagli potete trovare tutto sul sito di Pro Natura. Paola ci ha portato in uno spazio meraviglioso per il mondo del volontariato complimenti complimenti a Pro Natura complimenti al mondo del volontariato ed ora con la rubrica il volontariato culturale racconta Giulia Piovano figlia d'arte sua mamma Patrizia attivissima da sempre nel mondo del volontariato lei ci racconterà di un'esperienza importante di un'associazione legata a uno dei più importanti poli culturali di Torino il Palazzo Reale e i suoi volontari Giulia siamo pronti grazie Antonella e grazie Univoca per questa occasione di raccontare quello che è il lavoro che noi dell'associazione Amici di Palazzo Reale da ormai più di 26 anni realizziamo settimanalmente e noi siamo appunto attivi all'interno di Palazzo Reale nello specifico e il nostro compito diciamo primario come volontari attivi è quello di accompagnare i visitatori nella visita degli appartamenti o delle zone del Palazzo che generalmente non sono aperti al pubblico naturalmente il nostro compito è anche quello di valorizzare il Palazzo per cui insomma siamo stati negli anni un veicolo importante per molte fondazioni bancarie ultimo ma non ultimo è proprio la raccolta fondi che era stata stanziata dalla Fondazione Specchio dei Tempi per all'indomani dell'incendio della Cappella della Sindone per il restauro dell'altare del Bertola che è stato poi appunto utilizzato e il restauro insomma è stato ultimato un paio di mesi fa e noi appunto ci occupiamo nello specifico soprattutto dell'apertura di quelle parti che normalmente purtroppo per soprattutto questioni organizzative burocratiche del Ministero non è possibile tenere costantemente aperte i visitabili chi ha buona memoria e visto che grazie insomma al lavoro che è stato fatto dalla direzione sono ormai più di dieci anni che il primo piano di Palazzo Reale è ormai costantemente aperto alle visite libere ma appunto prima del 2011 era praticamente impossibile bisognava per forza accedere a gruppi con un accompagnamento da parte dei custodi quindi il lavoro è stato fatto molto importante noi nel nostro piccolo cerchiamo quindi di aiutare la direzione aumentando lo spazio di visita pertanto ovviamente in accordo con la direzione dei musei reali cerchiamo quelle aperture che altrimenti non sarebbero possibili questa è anche per me un po' l'occasione per specificare e ulteriormente sottolineare che non come spesso anzi proprio ultimamente visto che la polemica è fresca di giornata alla chiusura delle giornate fai di primavera appunto il rapporto che c'è tra volontari e guidabilitate io incarno entrambe le professioni in quanto insomma per quanto magari non titolati spesso i volontari comunque hanno lo stesso titoli che consentono di poter raccontare e non c'è in realtà per quanto riguarda la realtà degli amici di Palazzo Reale una diciamo una supremazia insomma comunque un disaccordo nel senso che purtroppo al momento a oggi se non ci fossero gli amici di Palazzo Reale le zone che vengono aperte sarebbero chiuse considerate che in questo periodo gli amici di Palazzo Reale consentono le visite al secondo piano della residenza quindi l'appartamento sia dei Principi di Piemonte che dei Duchi d'Aosta con affaccio sulla terrazza del secondo piano e ai luoghi del Sacro per cui una visita straordinaria tra la sacrestia della Cappella della Sindone la Cappella Regia la Tribuna Regia quindi con affaccio diretto sul Duomo di Torino e poi la visita naturalmente alla ritrovata Cappella della Sindone bene per tre di questi quattro luoghi quindi la sacrestia la Cappella Regia la Tribuna Regia senza gli amici di Palazzo Reale purtroppo le visite non sarebbero consentite per cui è un lavoro importante il nostro che speriamo di poter portare più a lungo possibile come aiuto per la soprintendenza per la direzione soprattutto e a maggior ragione per il pubblico per cui insomma noi siamo tutti volontari appunto altamente preparati spesso facciamo corsi anche direttamente con i restauratori piuttosto che con gli storici dell'arte della direzione e quindi la nostra è una formazione continua sostanzialmente come diceva appunto la nostra attività però anche rivolta alla valorizzazione al restauro per cui sono anche attualmente in campo delle attività di finanziamento di restauri importanti che verranno poi via via raccontati e svelati una parte anche di questi finanziamenti va ricordato arriva dalle quote del 5x1000 per cui naturalmente come Univoca e come tutte le altre associazioni anche gli amici di Palazzo Reale rientrano in questa iniziativa e i fondi che vengono appunto raccolti vengono poi dirottati su un restauro di una parte della residenza io spero insomma di aver dato un po' un'idea di quella che è la nostra attività e ovviamente il mio invito è di vedervi presto a Palazzo Reale grazie grazie a Giulia grazie all'impegno e anche a questa capacità di tenere in equilibrio il mondo del volontariato e il mondo del lavoro che non devono assolutamente andare in contrasto ma devono imparare a camminare insieme ma ce la faremo si è già fatto molto allora tra le molte attività che Univoca promuove e cura certamente la Gorà del Sapere è stato provvidenzialmente un progetto che ha saputo anticipare i tempi ma anche subito essere dentro i tempi parliamo con Feliciano Della Mora e con Gabriella Monzeglio ideatori e operatori di questa proposta Univoca è risultata recentemente vincitrice di un bando della Regione Piemonte per il sostegno a progetti di rilevanza locale per il terzo settore si tratta di un ampliamento del primo progetto a un grado sapere ideato nel giugno del 2019 prima ancora della pandemia per offrire occasioni nuove di promozione delle proprie attività per le associazioni ed approfondimenti didattici per le scuole con il diffondersi della pandemia e la chiusura delle sedi delle associazioni Agorade il sapere ha permesso di sopperire all'assenza di attività in presenza consentendo di contenere e organizzare conferenze incontri seminari e persino consigli direttivi ed assiglie tutto online e quindi senza interrompere le proprie attività ora che stiamo uscendo dal tunnel continueremo a sfruttare questo strumento per cogliere nuove opportunità allargare le possibilità di farci conoscere anche in città diverse dalla nostra sede ed ampliare la visibilità dell'operato delle associazioni aderenti in generale e di quelle culturali in particolare nello specifico le associazioni possono presentare in generale le proprie attività ai cittadini e alle scuole organizzare incontri per i propri soci tipo consigli direttivi assemblee riunioni di lavoro eccetera e programmare momenti formativi per i soci e per esterni conferenze corsi convegni stiamo in questo momento realizzando un corso online per nuovi volontari culturali condividendo anche la presentazione grazie alla registrazione e alla messa online sul sito dell'associazione ed anche sul canale youtube seguire incontri di musei ed enti esterni anche relativi a realtà distanti e fuori dalla nostra regione partecipare alla trasmissione virtuale online univoco online come già state facendo in questo momento per essere informati sulle iniziative sui progetti di univoco e delle associazioni aderenti ascoltare i commenti su argomenti di interesse generale e su avvenimenti che riguardano il volontariato la società civile e i beni culturali stiamo anche organizzando un corso di alfabetizzazione sulle piattaforme online suddiviso su tre livelli dalla semplice partecipazione agli incontri online fino alla gestione di un incontro in autonomia restiamo in attesa di vostre sollecitazioni per stimolare nuove ulteriori visite virtuali e siamo a disposizione per organizzare incontri con la vostra organizzazione per informazioni scriveteci a info chiocciola univoca punto org ora passo la parola invece a Gabriele Mondeglio che illustrerà l'utilizzo della piattaforma in ambito scolastico sì Agorà del Sapere propone alle scuole di tutta Italia di ogni ordine grado approfondimenti gratuiti online organizzati su 12 materie scolastiche o argomenti differenti i docenti possono scegliere l'esperienza che preferiscono consentendo così ai propri studenti di approfondire il programma scolastico di entrare in contatto con musei guide turistiche associazioni enti di formazione lontani anche centinaia di chilometri dalla propria città Agorà del Sapere non vuole sostituire le classiche gite o gli approfondimenti in presenza ma consente di aggiungere molti contenuti ai programmi scolastici alleggerendo il ruolo del docente e la sua responsabilità nel portare fuori i ragazzi in questo modo si abbattono le barriere logistiche economiche e sociali il valore aggiunto del progetto è la costante presenza di un formatore che presenta l'argomento ed è disponibile a rispondere alle domande dei ragazzi abbiamo gestito incontri che hanno visto la partecipazione in contemporanea di oltre cento classi e la presenza attiva dei ragazzi intervenute con domande e considerazioni nel 2021 in occasione della celebrazione per i 700 anni alla morte di Dante Alighieri Agorà del Sapere è diventato studente studente in viaggio ogni incontro è stato associato a un aspetto della divina commedia per introdurre l'argomento del corso per esempio il verso e quindi uscimmo a rivedere le stelle si collega al planetario di Torino oppure la terzina non mi parea né fuori né ampi né maggiori che quei che sono nel mio per San Giovanni atti per loco e battezzatori si collega a un percorso dantesco fatto a Firenze in collaborazione con la dottoressa Jenny Parcellani e con l'architetto Eugenia Valacchi della soprintendenza archeologia dell'arte e paesaggio per Firenze Pistoia e Prato la sfida è anche stata trovare all'interno della divina commedia le terzine alle quali associare ogni incontro da quella più conosciuta considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come brutti ma perseguire virtute e canoscenza ad altre meno note come e Guglielmo Marchese per cui e Alessandria e la sua guerra fa piangere Monferrato e Canavese segnalo inoltre che il progetto Agorà del Sapere ha avuto patrocinio del Ministero dell'Istruzione e di Indire oltre ai patrocini degli enti pubblici locali aspettiamo tutte le classi sul sito www.agoradelsapere.it e invitiamo naturalmente le associazioni a offrire la presentazione dei propri percorsi culturali alle scuole Certo Gabriella hai proprio ragione con tutto l'aiuto che avete dato alle associazioni di volontariato durante il lockdown permettendo attraverso Zoom attraverso questa piattaforma di incontrarci vederci raccontarci comunque d'arte avete ragione dobbiamo mettere dobbiamo aiutarvi per cui faremo un appello a tutti e ogni associazione dovrà dare il suo contributo sarà sarà il nostro il nostro impegno te lo prometto bene e ad ora siamo all'ultima delle nostre rubriche delle rubriche di oggi le associazioni di univoca si presentano e con noi Ilaria Giuntoli vicepresidente dell'associazione MioMao e non si tratta di gatti orientali grazie Ilaria buonasera a tutti sono Ilaria Giuntoli faccio parte dell'associazione MioMao volontari come diceva Antonella sono vicepresidentessa da un anno da quest'anno e il mio obiettivo è quello di presentare quali sono le attività che seguiamo come associazione quali sono i nostri obiettivi e anche in parte qual è il contributo che diamo la nostra struttura e soprattutto mettere in luce anche quali sono i nostri caratteri identitari in quanto associazione per iniziare metterei l'accento anche su qual è stato il nostro percorso fino ad oggi per cui ricostruirei un excursus per tappe della storia dell'associazione MioMao l'associazione nasce come MioMao Cittadini nel 2013 a sostegno del Museo d'Arte Orientale di Torino e poi nel 2017 ritroviamo l'atto costitutivo dell'associazione volontari MioMao dal 2018 abbiamo iniziato ad avere un ruolo attivo e anche a livello operativo abbiamo partecipato abbiamo aderito a questo progetto Mondi Lontani che ha visto la collaborazione dell'associazione con una scuola di infanzia e la partecipazione di 65 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e dal 2019 invece abbiamo iniziato a dare il primo supporto in visita in mostra che dura ancora oggi poi sempre nel 2019 è da rilevare anche la convenzione con la fondazione Torino Musei quindi fondazioni in cui confluiscono Palazzo Madama la GAM Galleria d'Arte Moderna e il Mao e quindi il nesso è quello di andare a unire il passato con il futuro e l'Oriente per quanto riguarda noi più nello specifico nell'atto di andare a formare la nostra associazione ovviamente ci siamo dotati anche di uno statuto uno statuto in cui ovviamente ribadiamo che l'associazione Volontari MioMao è a partitica senza scopo di lucro ma poi abbiamo anche identificato tre finalità tre obiettivi che perseguiamo il primo è quello nell'ambito del volontariato nel settore dei beni culturali di promuovere e valorizzare il patrimonio storico artistico culturale sia dei musei in territorio regionale quindi dei musei piemontesi e più nello specifico il Museo d'Arte Orientale di Torino il Mao poi quello di promuovere anche la conoscenza la valorizzazione della storia dell'arte delle tradizioni delle società sia asiatiche che del Medio Oriente e di favorire anche l'integrazione tra culture diverse e l'ultimo nostro obiettivo è quello anche di contribuire in maniera operativa attiva alla conservazione del materiale storico artistico sempre con riferimento generale ai musei piemontesi e più nello specifico del Museo d'Arte Orientale poi per quanto riguarda le modalità di iscrizione all'associazione l'associazione consente di iscriversi andando a recarsi in maniera fisica diretta alla biglietteria del museo quindi compilando un modulo di iscrizione oppure è possibile mettersi in contatto con noi tramite smartphone è possibile contattarci sia via mail all'indirizzo info chiocciola miomautorino.it poi siamo attivi anche sui social sia su Facebook che su Instagram al momento quindi su Facebook come associazione miomau e su Instagram come miomautorino e attualmente stiamo iniziando a espanderci anche con un profilo una pagina personale su LinkedIn che sarà attivo a breve e lo stesso vale anche per una pagina web dedicata che è www.miomautorino.it che sarà attiva anche questa nel breve periodo per quanto riguarda invece la nostra associazione attualmente siamo 35 soci di questi 35 soci 26 sono volontari attivi quindi è una quota anche abbastanza importante perché il dato è recente relativo alla mostra del 2021 quindi tiene conto anche della situazione emergenziale dovuta alla pandemia e per poter partecipare per potersi iscrivere e diventare soci è richiesto il versamento di una quota associativa annuale che ovviamente è una quota simbolica e poi una quota da versare una tantum solamente nell'atto di iscrizione per l'acquisto della divisa che è la pettorina che si vede in foto la pettorina rossa per quanto riguarda invece il nostro impegno ovviamente ha avuto delle modifiche dovute allo stato appunto pandemico però attualmente stiamo dando servizio il venerdì e il sabato seguendo l'orario del museo e quindi abbiamo sia un turno di mattina che i turni di pomeriggio i turni vanno dalle 10 alle 8 il venerdì dalle 10 invece alle 7 il sabato e sono scanditi in due o tre ore ciascuno ovviamente dà la sua disponibilità sulla base dei propri impegni e quindi non c'è non c'è vincolo abbiamo già dato come dicevo inizialmente contributo a diverse mostre a partire dal 2019 con la mostra acqua islam e arte poi siamo stati chiamati anche a collaborare per la mostra guerriere dal sollevante e per la mostra invece di Savoge l'Andor e stiamo attualmente dando anche un contributo alla mostra China Goes Urban che è stata realizzata in collaborazione col Politecnico di Torino e che è tuttora in corso e sarà appunto prorogata anche nel periodo estivo in realtà non seguiamo soltanto le attività del museo quindi non ci limitiamo a livello di contributo come associazione al supporto all'attività in visita ma abbiamo una serie di gruppi quindi abbiamo cinque gruppi che ruotano attorno all'associazione Miomao il primo il consiglio direttivo che ovviamente è un organo di rappresentanza si occupa della gestione delle attività interne all'associazione si occupa anche della gestione economica poi abbiamo anche un gruppo di promozione adulti e l'obiettivo in questo caso è quello di andare a identificare soggetti che siano potenzialmente interessati a far parte dell'associazione e metterli in contatto con i referenti e procedere poi al loro inserimento all'interno dell'associazione c'è un terzo gruppo che invece è il gruppo scuole che va invece a intercettare tutti gli istituti scolastici che potrebbero essere interessati a una collaborazione con il MAO che si tratti di percorsi di visita o si tratti ad esempio anche dei laboratori e quindi il nostro ruolo in quel caso è fare una promozione delle attività del museo e mettere in collegamento e in comunicazione il museo con gli istituti scolastici abbiamo anche un gruppo di comunicazione sociale che si occupa quindi sia dei contenuti social che del materiale informativo della nostra associazione è un gruppo di formazione che invece gestisce sia un corso di formazione per l'accesso all'associazione che una formazione di tipo permanente per i soci che già fanno parte dell'associazione MIOMAO più specificatamente riguardo al consiglio direttivo la struttura è costituita da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri che devono sempre essere in numero dispari e restano in carica per tre anni massimo dopodiché un'assemblea preliminare che precede l'elezione del consiglio e legge il consiglio e si procede poi invece all'identificazione delle cariche ci sono diverse cariche a cui è possibile candidarsi attualmente nel consiglio direttivo siamo in sette e quattro di noi svolgono ricoprono degli incarichi per cui siamo dotati di un presidente un vicepresidente un tesoriere una segretaria e il gruppo invece di comunicazione sociale si occupa come dicevo prima sia del canale social e quindi postano contenuti social sia riferiti all'attività del museo che all'attività dell'associazione che elementi di particolare interesse storico artistico culturale letture consigli di lettura e poi invece c'è un ramo che si occupa specificatamente del materiale informativo e quindi che rispecchia l'identità visiva dell'associazione tutto su contributo volontario il gruppo formazione invece si occupa come dicevo della formazione di base si è occupato della formazione di base dal 2016 al 2020 e lo scopo è capire quindi che cosa significhi far parte di un'associazione di volontari nel settore dei beni culturali qual è il nostro rapporto con il museo d'arte orientale e anche ovviamente creare un collante tra i soci che già sono membri e i soci in ingresso poi c'è un percorso di formazione invece permanente che quindi coinvolge i soci anche che sono già parte dell'associazione MioMao e spesso appunto con approfondimenti sulle correzioni permanenti del Mao stesso e poi dal 2019 abbiamo iniziato a prendere parte anche a laboratori che vengono organizzati dal museo il primo a cui abbiamo partecipato è stato appunto il laboratorio sulla manipolazione dell'argilla per fini educativi che vengono proposti proprio dal Mao e sono in progetto altri laboratori come Pennellate di Giappone e infine volevo sottolineare quali sono i nostri caratteri identitari in primo luogo ovviamente abbiamo una componente fortemente legata alla società alla cultura alle tradizioni dell'Oriente quindi sia dei paesi asiatici che invece anche dei paesi del Medio Oriente poi un'altra nostra caratteristica è il fatto che siamo un'associazione relativamente giovane quindi ci stiamo ritagliando il nostro margine d'azione abbiamo un margine di crescita ampio perché siamo attivi da pochi anni e abbiamo diverse attività nel nostro portafoglio di attività tra cui laboratori appunto di cui parlavo prima e ciascuno di noi poi può dare un contributo individuale quindi il terzo elemento particolarmente significativo è la crescita sia la crescita dell'associazione che la crescita individuale il contributo che ciascuno di noi può poi apportare all'associazione sulla base del percorso formativo delle esperienze professionali o comunque delle passioni degli interessi che ognuno di noi ha e ovviamente siamo anche un gruppo coeso come avevo detto prima siamo 35 membri e una quota significativa di noi è attiva segue le iniziative partecipa alle mostre dando il proprio contributo e quindi spero di aver suscitato l'interesse per aderire alla nostra associazione e vi ringrazio bene grazie a tutti abbiamo siamo arrivati all'ultimo all'ultimo intervento grazie Ilaria affascinante questo oriente voi così attivi come avevamo detto anche questa puntata è stata densa di proposte di suggerimenti possiamo ritrovare tutto sul sito di Univoca come abbiamo già detto sui siti delle varie associazioni che oggi si sono presentate sui canali YouTube e per tutti e per tutte un grande arrivederci alla prossima puntata il 28 giugno 2021 a presto ciao a presto a presto